Fervono i preparativi per la 24esima edizione dello slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, gara automobilistica più longeva del Molise, in programma questa domenica. La gara molisana, valida per il campionato italiano slalom, rappresenta la terza tappa delle otto previste per assegnare il tricolore. Per il campionato Cez Central European Zone, invece, si tratta della quarta delle otto previste nel calendario. Lo slalom di Campobasso sarà valido anche come prima prova dei campionati interregionali slalomizzati e regolarizzati. Quest'anno alla Kermess, che da anni premeggia tra le migliori gare nazionali di specialità, si sono iscritti più di 90 piloti e circa 20 drivers al via della prova di regolarità. A proposito di piloti, anche la molisana Martina Iacampo, campionessa Cez 2015, prenderà parte all'evento della sua città, questa volta con una novità. L'azienda di Iorio S.P.A. con il marchio Acqua Molisia farà da sponsor per la stagione 2016. Il pilota della Molise Racing sarà in gara nel campionato italiano e nella Championship Continentale, dove tenterà di confermare il titolo sfruttando le due tappe italiane, lo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini e lo slalom Colle Ogani in programma adesso il 9 e 10 luglio. La Peugeot 106 della campionessa europea Martina Iacampo, griffata Acqua Molisia, sarà impegnata anche nel campionato interregionale slalomizzati. Il percorso registra una lunghezza di 3,4 chilometri e sarà intervallato da una serie di brillate dell'Algildonese, barriere di rallentamento che metteranno a dura prova le abilità dei concorrenti. Giusto per citarne alcune, Oselle, Clio, Honda, Radical, Fiat e tante altre, le auto iscritte che dovranno superare domani le verifiche tecnico-sportive. Tanti i big delle quattro ruote, dal 5 volte campione italiano Fabio Emanuele, Alfred Fries campione europeo slalom dal 2011 al 2013, da Salvatore Vinaccia che vanta ben quattro tricolori, a Patrick Meyer campione Cez 2015 categoria E1 e Salvatore Venanzio campione italiano slalom 2014. Sono solo alcuni dei big che parteciperanno alla Kermesse tricolore nello slalom molisano. Per domani sono state predisposte dalle 15 alle 19.30 presso la concessionaria Vitale Motor le verifiche tecnico-sportive. Subito dopo sarà pubblicato l'elenco delle auto ammesse alla gara. Tutto pronto quindi, l'appuntamento è fissato per domenica mattina alle ore 11, la partenza della prima macchina per la mascia di ricognizione. Alle 12.30 allo start della manifestazione che terminerà intorno alle 17, per concludere poi con le premiazioni nei locali della concessionaria Vitale Motor. Grazie a tutti.